La seconda concorrente di questo pomeriggio è Mio Sasaki, dal Giappone, 25 anni. Eseguirà nell'ordine di Giuseppe Tartini la suonata in sol minore, il trillo del diavolo e cadenza, di Virginio Zoccatelli, il mio cuore elegiaco per violino e pianoforte dedicato a Pierpaolo Pasolini, di Eugène Isai la suonata numero 3 dall'opera 27 per violino solo e di Niccolò Paganini il capriccio numero 7 dall'opera 1. Sarà accompagnata dalla pianista Mizuho Furukubo e dopo questo concorrente ci saranno 10 minuti di intervallo. Grazie. 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 Grazie.